Presentando Luca Toni. Ragazzi, questo è Luca Toni, il nuovo attaccante. Luca, sono contento di rivederti. Ciao Alex, ciao a tutti. Ma Luca, sei bravo o no? Perché io, tu non sei bravo a nulla. Buoni ragazzi. Domenica c'è la partita contro la Roma. Con Luca siamo a posto. Ma mister, sono infortunato. Tu sei sempre infortunato.